Intro Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo e spero fantastico video Oggi siamo qui tornati su Batman Arkham Asylum E si sto facendo tutto di fretta perchè mi aspettano su Skype E io dovrei registrare come al solito mezz'ora di video Quindi vediamo di sbrigaci a fare sto pezzo Voglio perlomeno completare la parte di Killer Croc Perchè immagino che dopo questo ci sarà da affrontarlo Quindi vorrei finirlo questo pezzo qui Si si non riuscirò a nascondersi da te Ok trovami quante volte ti pare ma io ti sconfiggerò Mi puzza di trappola sta cosa sapete Non so perchè ma mi puzza proprio proprio Oh cazzo Questa era una colpa trappola più che altro Ah minchia Vai via Ok Non ho dei riflessi ultra incredibili ma ce li ho abbastanza buoni Quindi riesco a contraattaccare a sta cosa E qui ragazzi sicuro che qua c'è sta un trabocchetto Mo' mi attacca alle spalle Ok Così? Non ho altre idee Oh cazzo Mi sono cagato in mano Cos 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 Che 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 Senti Ok Stavo per dire un'atrocità in grammatica Stavo per dire ho scappato Però mi sono fermato al tempo Che cazzo Non ce sto più che alla testa io eh Parla quanto ti pare bello Non ne mi avrai tanto facilmente Almeno adesso Poi quando lo devo combattere Saranno Cazzi Vai via Oh cazzo Non basta un colpo Sì basta Non me ne ho credo Ah Corri 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 Ok basta Non devo più correre È quello Ecco l'ho visto Yeah Oh come No Sto andando Dove sto andando Cosa è successo Come mi sono salvato Non lo so Eh ma mi sono salvato ed è quello l'importante Ho abbastanza spore Ok Devo tornare alla batcaverna per trovare l'antidoto Ah non devo ancora affrontare chi da shock Yes Hai attivato un segnale sonar là sotto Astuto Ma è anche perché io non saprei come tornarci indietro Sto per uscire Cosa mi dice di croc Non sarà un problema Ok Adesso Non così Non così davanti cazzo Dove cazzo devo andare Di qua No Sì No Sì Sì Ok No Che tu sia dannato Avevo il lanciacavo Non il batarang Oh Corri batman Ti prego batman Corri vai ti prego Corri scappa che c'è il nemeti skill Croc di sta Sta minchia Ok dovremmo essere al sicuro Vedo Io però corro comunque Non mi interessa Oh no Oh no No non devo più chiare Che devo fare Che cazzo devo fare Non l'ho capito una minchia Ci godo Perlomeno non devo affrontarlo ancora Per fortuna Devo tornare Oh Achievement Quanti me ne mancherò di achievement Giusto per vedere Sto per controllare un po' Parecchi Vabbè No mi devo rifare tutta la strada No 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 Non me la puoi far rifare Di qua È vero perché la Ah sono collegato È vero me l'ho dimenticato Buono Buonissimo Ok quindi Via di lanciacavo E Boom Potenziamento anche Voglio subito Subito Mentre stiamo appesi Sì fa nulla Prenderò batarang doppio Che potrebbe tornarmi utile In alcune situazioni Quindi Meglio sempre Avere dei potenziamenti In più qua Oh Questa è la porta Che non si apriva L'altra volta Cioè meglio Non è che non si apriva Che noi volevamo aprire Ma che Killer Croc Ci ha praticamente Sbattuto in fascia Ma ora aspetta Ora che ci penso Non dobbiamo più Affrontare Scarecrow Perché Killer Croc L'ha mangiato Praticamente Quindi Meglio per noi Abbiamo perlomeno Sconfitto Scarecrow Credo Che cazzo succede adesso Oh scusate Io per cosa C'è un cissolo Voglio pigliare Le piante stanno impazzendo Sto ricevendo picchi sismici Da ogni parte Non mi piace Neanche a me Bene Ho i campioni di muffa Adesso vado alla batcaverna A preparare l'antidoto Bravo Ti direi di muoverti Ma sono sicura Che sai quello che fai Contattami dalla caverna Se hai bisogno di qualcosa Qualcosa Oh cement Fuck yeah Oh questo 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 Me l'ero perso Non ci credo Ok Tanto non è che mi interessa Di queste cose Però Se le trovo Vediamo un po' Cosa farà adesso Batman Dovrà fare l'antidoto Poco È stato più difficile Del previsto Il processo è lento Complesso E non produce Molto antidoto Buone notizie La sostanza Dovrebbe fermare Definitivamente Ivy Dovrebbe anche invertire La trasformazione Del Titan Per essere sicuro Devo fare altri test Ho impostato il computer Per questo Ma prima Devo trovare Ivy Grazie al cielo Le sue piante Hanno raggiunto Il fiume di Goff Batman Bruce Tutto bene? Sto bene Oh non ci credo Una nuova arma Un nuovo attrezzo Come caspio si chiama Ultra battatio Lo sparare a tre ganci Per volta Sfruttando i suoi punti Di aggancio aggiuntivi Puoi distruggere Un muro fragile E stra Questo Sì Che è utile Questo è figo Ok Quindi adesso Impatisci a Poesion Ivy Di distruggere L'isola Perfetto Ma Dove devo uscire? Oh aspetta Qui Oddio Riesco ad arrivarci così? Ok sì Pensavo che Batman Fosse totalmente Coglione da Non apprendersi Quindi Ho controllato E Ah ok Sono uscito di nuovo fuori Ricordo questa strada Me la ricordo Ok Ok quindi è praticamente diventato un platformer Un platformer Un platform game Va bene Ormai sto entrando in uno nella mentalità del gioco Ormai non ce n'è più Come esco io da qui? Devo seguire la mappa Perfetto Dai Ci sto Devo rientrare lì Batman Ho elaborato una simulazione sui danni che le piante di Ivy farebbero se raggiungessero Gotham Non andranno lontano Il mio antidoto fermerà loro e anche Ivy Spero che tu abbia ragione Se hai bisogno D'accordo tizia Io nel frattempo rompo munico Di a caso E prendo i trofei Ah Non sapevo che ci potesse fare Vengo a scoprire sulla via Oracle Abbiamo un altro problema Che cosa ancora? Due facce? L'enichemista? Un robot gigante con la faccia di Joker? Non ho niente di così semplice Sono all'incrocio principale della fogna E sembra che sia Che cosa sta facendo? Do un'occhiata Micchia addirittura ho sbloccato la statuetta di Bane Mamma mia Cioè statuetta di Bane Secondo me è tipo un modello in scala 10x10 Tipo Non lo so Opla Oh Distruggilo prima che si spari la roba Ok Ok La qual Titan sembra corrosiva Ma non dovrebbe attaccare il busto Che cosa hai scoperto? Non sono sicura che tu sia pronto a saperlo No Ma tu provaci Joker sta pompando le scorie provenienti dal processo di produzione di Titan nella camera Funge da serpatoio di stoccaggio naturale Quando sarà pieno l'acqua traboccherà nel fiume di Gotham In genere è una procedura sicura ma Ma questa volta l'acqua è piena di Titan Come posso fermarlo? Ci sto lavorando sopra Ok e io qui come ci passo però Posso distruggerlo? No che non posso E devo andare di là per forza io Ok Devo salire qui? È una strada che non ho mai fatto questa Ma immagino che devo farla per forza È una strada che ho su file ci sono tre centraline La prima è sopra di te Devo spegnerle Che cosa succede se il Titan arriva a Gotham? È una gran Gotham Invece cerca di inquinare il fiume Gotham Ok Dove cazzo andare? Attiva la sala Pompeo West Eh sì ma Aspetta un po' A me che Tante volte devo Luca ho avuto la mappa Vuoi vedere che è in garata direzione? Ci sono un grande Se lo ha indovinato Dove cazzo? Da dove è? Oh Salve Ah Lo so Posso già farlo da qui? No Ciao Come state? Da posto? Ah E Sboo Ormai è diventato più easy per me battere questi qui Ciao Ciao Beh divertiti finché puoi Queste caverne saranno la tua tomba Fottiti Ok Ok va bene ragazzi Io sto po' qua Siamo arrivati a 26 minuti di video Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like Quello che sapete Ci vediamo al prossimo Ciao 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 Ciao